Troppi morti sulle strade, il prefetto di Trapani corre ai ripari costituito l'osservatorio provinciale sugli incidenti. Uccidi mio figlio, 8 mila euro, il compenso che la donna di Castellammare del Golfo avrebbe offerto ad un pregiudicato. I due ora sono indagati. La giornata della memoria, Trapani questa mattina ha ricordato le vittime dei bombardamenti. Ben ritrovati, benvenuti a questa edizione serale. Troppi morti sulle strade e il prefetto corre subito ai ripari. Vediamo in che modo. Troppi morti sulle strade, tre nell'arco di pochi giorni e così il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, corre ai ripari, costituito l'osservatorio provinciale sugli incidenti che ha come scopo quello di delineare efficaci strategie per contrastare il fenomeno. Presieduto dal prefetto, l'osservatorio è composto dai rappresentanti delle forze dell'ordine, dalla Polizia Municipale e dall'ANAS e sarà integrato con rappresentanti di altri organismi pubblici o privati la cui partecipazione sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità di contenimento degli incidenti stradali. A Trapani l'ultima tragedia, la vigilia di Pasqua. A perdere la vita, Alice Culcasi, di 22 anni, alla guida di una SEAT Ibiza, si è schiantata contro un albero mentre stava ritornando a casa. La ragazza non ha avuto scampo e morta sul colpo l'incidente in via Virgilio. Il giorno primo, un altro morto, la vita di Salvatore Lobù, 64 anni, di Erice, si è spezzata sulla statale 187 nel territorio di Valderice. Alla guida di una moto Honda è scivolato mentre stava abbordando una curva. Una vittima anche a Marsala, due giorni fa, a perdere la vita Mario Abate, 36 anni, in sella a uno scooter, si è scontrato con un'auto in via Trapani. Una donna di Castellammare del Golfo avrebbe chiesto ad un pregiudicato di uccidere il proprio figlio. I due ora sono indagati per tentato omicidio. Stanca di subire le vessazioni del figlio, una donna di Castellammare del Golfo avrebbe chiesto a un conoscente di ucciderlo e al rifiuto di quest'ultimo si sarebbe rivolto a un pregiudicato alcamese. Entrambi, il prossimo 5 giugno, dovranno comparire dinanzi al giudice che nel corso dell'udienza preliminare dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Trapani. Tentato omicidio, l'ipotesi di reato. I fatti risalgono al mese di novembre del 2023, quando la donna di 73 anni si sarebbe rivolto a un conoscente, anche lui Castellammarese, avanzando la sconcertante richiesta. Uccidi mio figlio. Il 52enne, disoccupato infatti, le chiedeva denaro e se la madre non metteva mano al portafogli veniva picchiata. Esasperata pertanto, avrebbe maturato l'idea di sbarazzarsi del figlio. La persona a cui si era rivolta però si è rifiutata, raccontando tutto alla polizia. Decisa a portare a compimento il suo progetto, la donna avrebbe contattato un pregiudicato alcamese che avrebbe dovuto sbarazzarsi del figlio simulando un incidente stradale. 8 mila euro. Il compenso, il piano, è stato sventato grazie alle indagini che hanno preso il via dopo la denuncia del Castellammarese. Il PM aveva chiesto per la donna la custodia in carcere, richiesta però che è stata respinta dal GIP di Trapani. L'ex presidente del Trapani Calcio, Maurizio De Simone, è stato arrestato a Pistoia dai militari della Guardia di Finanza. Nuovi guai giudiziari per Maurizio De Simone, ex presidente del Trapani Calcio, che è stato arrestato a Pistoia dai militari della Guardia di Finanza. Il patron della squadra di calcio toscana sarebbe rimasto coinvolto in una maxifrode fiscale ai danni dell'Unione Europea e sul PNRR. Reati fallimentari e false fatture, le accuse contestate dalla procura di Pistoia. I militari delle Fiamme Gialle hanno eseguito un blitz nella sede della Pistoiese eseguendo un'ordinanza di misura cautelare a carico di 23 soggetti, tra i quali De Simone. Ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta del procuratore europeo delegato dell'ufficio di Venezia. Nell'ambito dell'operazione è stato anche eseguito un sequestro preventivo di oltre 600 milioni di euro. Maurizio De Simone è stato trattenuto per diverse ore nella caserma della Guardia di Finanza per le operazioni di rito, per poi essere trasferito nelle carceri di Santa Caterina. Già in passato l'ex patron Granata era finito in carcere per riciclaggio, appropriazione in debita ed evasione fiscale. Adesso una nuova tegola. Ancora a cronaca ricoverati in ospedale i due uomini che ieri sera a Trapani sono stati aggrediti da un pitbull. Indagini in corso a Trapani per far luce sull'aggressione subita da due uomini ad opera di un pitbull. È accaduto ieri sera in via Orfanotrofio nella zona del centro storico. Il cane è sfuggito a quanto pare al controllo del padrone. Le vittime peraltro sono sue vicine di casa. Si è avventato contro i due malcapitati. Uno è stato morso a un braccio, l'altro invece a un piede. Entrambi sono stati ricoverati. A dare l'allarme intorno alle 19.30 è stata un attorista francese che si trovava in zona. Le urla delle persone aggredite hanno richiamato la sua attenzione e la donna ha chiamato l'ambulanza. I due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate dove hanno ricevuto le prime cure. L'uomo morso a un braccio dopo una prima assistenza sanitaria nell'area di emergenza del nosocomio trapanese è stato trasferito a Palermo. Il cane gli ha fratturato l'arto in via Orfanotrofio. Sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno provveduto ad ascoltare il proprietario del pitbull e alcuni testimoni. Celebrata questa mattina a Trapani la giornata della memoria. È il 6 aprile 1943. Trapani si ferma improvvisamente tra grida di dolore, pianti e ricerca di riparo. 81 anni dopo Trapani ricorda tutti i bambini, gli adulti che sono morti durante quel bombardamento e in generale tra il 1940 e il 1943. E lo ha fatto questa mattina, prima con un corteo della memoria della pace, aperto dal ritmo dei tamburi dell'Unione Maestranze e poi con un momento di cerimonia e di commemorazione davanti il monumento delle vittime civili di guerra. La giornata della memoria trapanese nasce proprio da una ricerca che si è fatta per quanto riguarda i vari bombardamenti che la nostra città ha subito, oltre 30 bombardamenti in due anni e mezzo, in tre anni circa. La data quella più particolare, più terrificante è stata proprio quella del 6 aprile 1943, quando la città, come dicevamo nella manifestazione, è stata rasa a suolo e ha portato tantissime e tantissime vittime. Noi abbiamo trovato circa oltre 200 nominativi morti proprio il 6 aprile del 1943 alle 15.15. Quindi questo per testimoniare appunto questo numero grande del bombardamento e di quello che ha subito il bombardamento. E poi molti edifici distrutti, come il Teatro Garibaldi, la Chiesa dei Misteri, con i sagri gruppi dei misteri all'interno, così come la Corsitalia, che è una strada nata a posto guerra, perché quella è una strada dove c'erano tante viuzze che si intrecciavano tra di loro, purtroppo andati, bombardati, distrutti e quindi hanno poi buttato per terra e costruito questo Corsitalia. Quindi nasce proprio da questo momento. Alla cerimonia hanno partecipato alcune classi di diversi istituti scolastici trapanesi, i bersaglieri di Trapani e le autorità civili e militari. I ragazzi devono imparare ad apprezzare la libertà e la pace e quindi questi momenti sono fondamentali per avere dei cittadini consapevoli del loro futuro. Se vogliamo dei ragazzi, una società che sia costruttrice di pace, la pace la deve portare nella democrazia, nella libertà, nella giustizia, in tutto ciò che viene fatto, anche nelle piccole cose che questi ragazzi vivono in relazione alla proprietà. Il governo Schifani risponde all'emergenza finanziaria dell'ente per il diritto allo studio universitario, annunciando lo stanziamento di nuovi fondi. Sono mesi che gli studenti universitari dei poli didattici siciliani attendono l'erogazione della borsa di studio, essendo risultati idonei e assegnatari Malersu, ente regionale per il diritto allo studio universitario, ritarda. La causa è da ricondurre a fondi e finanze insufficienti, nonché al numero esorbitante di studenti che versano in condizioni economiche difficili con un ISEE, nella maggior parte dei casi, inferiore agli 8 mila euro. Oggi la risposta del governo per affrontare l'emergenza finanziaria dell'ente. L'aggiunta Schifani ha infatti destinato 25 milioni di euro per rispondere all'urgente questione delle borse di studio universitarie, in seguito anche all'incremento del 50% delle richieste ammissibili. L'assessore Mimmo Turano e la dirigente Giovanna Segreto hanno annunciato l'impegno a coprire le richieste e a scorrere le graduatorie a Palermo, Catania, Messina ed Enna. Il finanziamento mira a garantire il pagamento completo delle borse di studio per oltre 30 mila studenti, rispondendo così alle sfide finanziarie dell'ERSU. La presidente Margherita Rizza ha evidenziato le difficoltà dell'ente nel coprire il crescente numero di richieste valide, sottolineando la necessità di ulteriori risorse per fronteggiare l'aumento delle domande e degli importi delle borse da erogare. Ora lo sport, buon prosieguo.